Più controlli nelle città, nelle frontiere, negli aeroporti e nei flussi migratori. Al Senato il ministro dell'Interno Piantedosi conferma il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine negli obiettivi sensibili a seguito della crisi in Medio Oriente. Il titolare del di Castero del Viminale torna anche sulla vicenda del giudice apostolico e ribadisce che il video della manifestazione non proviene dalla questura. Il video in questione che ritrae il giudice Iolanda Apostolico nella manifestazione pubblica al porto di Catania il 25 agosto del 2018 non proviene da documentazione della questura di Catania. Forze politiche alle prese anche della manovra attesa sul tavolo del Consiglio dei Ministri per lunedì prossimo mentre monta la polemica sul salario minimo dopo la presentazione del documento votato dal CNEL ma maggioranza che sostanzialmente predilige invece la contrattazione collettiva. È l'unica garanzia per avere un mercato di lavoro efficiente, eco, con salari giusti, dignitosi. Critiche invece dalle opposizioni. Oggi si compie il delitto perfetto. Il CNEL di Brunetta, come era immaginabile, ha fatto da sponda e addirittura rinvia la questione alla contrattazione collettiva.